Ok, dovrebbe funzionare tutto. Allora, prima di iniziare, vi faccio notare che come sempre noi mettiamo in anticipo, forse non con tantissimo anticipo, ma insomma prima della lezione sicuramente, il materiale sul sito del corso. Nel sito del corso ho trovato in realtà il link al GitHub che è comune ai tre corsi, quindi italiano e inglese. E oggi parliamo appunto di oggetti e funzioni e poi facciamo un po' di esercizi insieme. Così vediamo anche l'ambiente di sviluppo e tutto quanto, e quindi siete pronti a operare per conto vostro, non solo usando questo giocattolo che è il Python Tutor, che va bene all'inizio per imparare, però potete fare esperimenti un po' più sofisticati. Ok, vi ricordo anche che sul sito del corso in italiano, quindi il MediaPolitit.it, dove che l'abbiamo messo? MediaPolitit.it barra av1, trovate sempre il calendario, ecco i link ai video della scorsa volta, che sono comunque nella playlist, eccetera, e link a queste slide. Ok, e poi quando abbiamo finito oggi, mentre facciamo, io metto online gli esempi, e troverete anche il link agli esempi, che comunque vanno a finire sempre sul solito GitHub, quindi niente di diverso, ma così ce li avete, diciamo così, anche un po' in diretta, quando arriviamo a un punto fermo, faccio il commit e lo mettiamo a disposizione. Li trovate, per ricorso in italiano, sotto av1wix, ok, che è un reposito separato, ma diciamo, sempre all'interno della stessa organizzazione, quindi è il stesso link. Per ora trovate un esercizio che oggi, su cui oggi, no, dove è andato? Sì, exercise, qui dentro, in exercise, ho trovato un esercizio che ho messo online ieri sera, e che oggi proviamo a fare insieme, ok? Bene, direi di partire, se non avete domande o dubbi su qualcosa che magari l'altra volta non è rimasto chiaro. Ok, quindi oggi continuiamo a vedere un po' di aspetti di JavaScript, sempre nell'ottica di cercare di capire la filosofia di JavaScript. Io non sono qui a insegnarvi a programmare, se dovete fare dei for, degli oggetti, chiamare dei metodi sugli oggetti, eccetera, questo siete in grado di farlo, ok? Però noi dobbiamo imparare come JavaScript gestisce queste cose e soprattutto come gestirle al meglio per i nostri scopi. Certe cose saranno un po' particolari, come gli oggetti e le funzioni, che sono l'argomento di oggi. Le riprenderemo in esempi e esercizi la prossima volta, però dobbiamo prima di tutto capire cosa c'è di diverso, diciamo così, dalle solite funzioni dei linguaggi classici, a cominciare dal C. Ok, quindi partiamo dagli oggetti. Ecco, cominciamo dalla prima stranezza. Tutti sapete cosa sono gli oggetti. Nei linguaggi di programmazione a oggetti tradizionali, di solito voi ragionate con gli oggetti pensando in termini di istanza di una classe. Noi abbiamo una classe, il template, da lì creiamo con lo stampino oggetti tutti uguali. Ecco, in JavaScript questa cosa non esiste. Gli oggetti non sono pensati in questa maniera, quindi ci dimentichiamo gli oggetti classici dei linguaggi di programmazione a oggetti classici. Gli oggetti esistono senza le classi, non ci sono le classi in JavaScript. Quindi cosa sono gli oggetti? Gli oggetti alla fine sono una collezione di proprietà che hanno un valore. Ok? Quindi questi sono gli oggetti. Un po' come gli array ma non hanno un ordine. Ogni casella ha un nome, che è il nome della proprietà. Ok? Questa proprietà ha un valore e può avere qualsiasi valore che l'altra volta abbiamo visto in JavaScript. Vi ricordate i tipi di valori? Sono i valori e non le variabili che hanno un tipo in JavaScript. I valori erano numerici, string, booleani, null, undefined e in più c'erano i valori più complicati, cioè dei riferimenti a delle cose più complicate che erano gli array, gli oggetti e le funzioni. Fine. Una proprietà di un oggetto può contenere uno qualsiasi di questi valori. Quindi un valore, diciamo, primitivo oppure un riferimento a qualcos'altro addirittura anche a una funzione. Quindi quando la proprietà conterrà un riferimento a una funzione di fatto diventerà quello che noi nei linguaggi di programmazione classici a oggetti chiamiamo metodo. Perché se lo chiamiamo con le parentesi funziona come una funzione. Anche qui funzionerà così ma è la differenza che noi ci mettiamo direttamente dentro il riferimento a una funzione. Ed è una proprietà come le altre dal punto di vista della sintassi del linguaggio. Ok, quindi, gli oggetti sono creati direttamente senza avere una definizione di classe e ve lo anticipo già avremo parentesi graffa aperta e creiamo un oggetto come tra l'altro si fa in altri linguaggi di scripting per esempio se avete in mente Python e in realtà lì è più un array associativo vabbè, però comunque diciamo come concetto va bene gli oggetti sono dinamici quindi a differenza, di nuovo, degli oggetti creati da un template a una classe dove nella classe definiamo quali sono le proprietà e i metodi qui aggiungiamo e togliamo come ci pare come abbiamo visto l'altra volta con gli array negli array aggiungevamo e toglievamo elementi come ci pareva in realtà non abbiamo visto il delete ma diciamo si può fare ma al bisogno creavamo un nuovo elemento nell'array ok non ci sono metodi per controllare l'accesso è tutto pubblico non è come se avete preso in Java c'è il public, protected, private e così via no, qui è tutto pubblico quindi bisognerà un po' fare attenzione ok ci sarà qualche trucchetto diciamo per programmare in maniera un po' similare a quello che facciamo in altri linguaggi però diciamo la filosofia è così diversa che alla fine non so neanche quanto ci servirà ok quindi andiamo a vedere degli esempi che è la cosa più semplice per iniziare a capire quindi un oggetto è una collezione un insieme di proprietà non ordinate nel vettore abbiamo gli indici 0, 1, 2 eccetera qui non abbiamo gli indici accediamo a ogni proprietà tramite il suo nome ok come li creiamo? vi anticipavo prima con la parentesi graffa quindi apriamo una parentesi graffa è la maniera più semplice in realtà poi c'è il metodo oggetto object punto eccetera però la parentesi graffa come la quadra per gli array è la maniera più semplice di creare gli oggetti ok quindi diciamo vogliamo creare un oggetto che ha due proprietà x e y con due valori e dargli direttamente i valori qui nell'inizializzazione 2 e 5 questa è la maniera abbastanza simile anche a tanti altri linguaggi altro oggetto book autore titolo per pagina eccetera i valori possono essere qualsiasi cosa qui per semplicità ho messo solo numeri e stringhe ma come vi dicevo possiamo avere altri tipi di valori tutti quelli ammessi da javascript ecco una cosa già un po' curiosa che come vedete possiamo creare cioè possiamo dare i nomi delle proprietà in due maniere direttamente col nome senza alcuna virgoletta oppure anche con le virgolette ok questa è una cosa così da tenere in conto di solito la prima sintassi cioè senza virgolette la preferita perché è un po' più semplice però il fatto che possiamo usare le virgolette fa sì che a un certo punto potremmo anche avere delle proprietà con lo spazio dentro o cose di questo tipo che non sono utilissime così da nulla ma ogni tanto potrebbero venireci comodi perché gli oggetti di fatto se li usiamo come array che contengono chiavi valori magari la chiave può avere uno spazio e ci può tornare comodo avere una chiave con lo spazio quindi di fatto è una proprietà che ha un nome che ha lo spazio interno ok va bene non vi apro il python tutor già adesso lo apriamo tra un po' però se lo eseguissimo in python tutor questo codice avremo questa figura qui sulla destra cioè anche qui abbiamo in point book cioè le due variabili che contengono gli oggetti non l'oggetto stesso ma riferimento all'oggetto l'oggetto è allocato nella memoria di javascript e viene creato nel momento in cui apro la graffa e decido di metterci dentro qualcosa poi può crescere decrescere quindi può aumentare il numero di proprietà può ridurre il numero di proprietà a seconda di quello che ci faccio sopra sono dinamici ok quindi qui trovate diciamo tutto quello che stavo dicendo ovviamente va bene la proprietà deve essere unica perché se la proprietà non è unica quindi non posso avere due proprietà con lo stesso nome ma questo è abbastanza scontato insomma come non posso avere due metodi o due proprietà nei linguaggi oggetti tradizionali con lo stesso nome se no non riesco più a distinguerli c'è l'operatore delit se avessi mai bisogno di cancellare qualcosa ma è una cosa abbastanza rara ok il resto l'abbiamo già detto vi sottolino che il valore può anche essere una funzione ma tanto parliamo di funzioni tra poco e quindi questo lo riprendiamo perché la questione delle funzioni è fondamentale in javascript quindi dobbiamo capire assolutamente bene come funzionano e sarà abbastanza peculiare come faccio a accedere alle proprietà? beh con la classica notazione punto che usano quasi tutti i linguaggi di programmazione oppure con le quadre con le quadre mettendo dentro il valore che corrisponde al nome della proprietà quindi o la stringa con le virgolette oppure una variabile che contiene una stringa che rappresenta il nome della proprietà quindi anche l'accesso può essere reso dinamico ovviamente se ho lo spazio nel nome della proprietà non posso usare punto perché poi il parser non capisce più che lo spazio era il nome della proprietà e non è un altro elemento da gestire ma questo diciamo è un dettaglio quindi col fatto che io posso accedere agli elementi degli oggetti quindi alle proprietà con la quadra di fatto ottengo quello che in molti altri linguaggi di programmazione si chiama array associativo cioè un array dove io posso fare accesso agli elementi non tramite il numero quindi la posizione dell'array ma tramite un valore una chiave che dice qual è la casella etichettata con quella chiave di cui mi interessa il valore e questo viene spesso comodo come avete visto prima all'esempio dei libri autore, titolo eccetera di solito diciamo in C potremmo confrontarlo con le strutture con le struct in altri linguaggi ci sono le classi che hanno appunto le loro proprietà ok quindi qui nulla di nuovo dobbiamo solo prendere l'abitudine a gestire queste cose come vuole javascript c'è molta flessibilità come dicevamo possiamo fare accesso alle proprietà alle proprietà appunto con la stringa con il contenuto di una variabile e questo ogni tanto ci viene comodo perché vedremo che nel programmare soprattutto per il web magari dobbiamo memorizzare le informazioni che vengono in forma parametrica quindi hanno una chiave che è inserita nel valore di una variabile e quindi questa sintassi è supportata anche nel momento in cui andiamo a creare l'oggetto e non solo nel momento in cui andiamo a voler usare creare l'oggetto o creare la proprietà e non solo nel momento in cui vogliamo andare a usare il valore ok quindi funziona sia in accesso e sia in creazione addirittura potremmo mettere qualsiasi espressione javascript cosa che vi sconsiglio perché perché poi nel codice non si capisce più niente se cominciamo a fare delle operazioni per creare la chiave per farci accesso o per crearla e così via diventa un pasticcio ok però questa notazione ve la sottolineo perché ogni tanto negli esempi che vedremo e troverete in giro la trovate quindi bisogna capire cosa vuol dire cosa vuol dire aperta graffa aperta quadra prop chiusa quadra due punti veri stiamo creando un oggetto che ha una proprietà il cui nome non conosciamo perché è il valore della variabile prop quindi dentro prop ci sarà una stringa o un numero e che avrà come valore value che è il nome di un'altra variabile quindi sarà di nuovo un numero una stringa un boolean eccetera ok quindi creiamo una proprietà con il valore uguale a value e il nome uguale al contenuto di prop tipicamente una stringa perché diciamo è la cosa che ci viene più semplice per programmare ok possiamo accedere alle proprietà solo se esistono se no ci da un errore o meglio se accediamo ad una proprietà che non esiste ci viene fuori undefined se però dereferenziamo undefined quindi mettiamo undefined punto qualcosa questo è un errore e il nostro programma javascript si blocca e vi ricordo che la cosa peggiore che ci può capitare perché di solito il nostro programma javascript deve essere come dire tutto funzionante perché altrimenti la nostra pagina web l'applicazione web che andiamo a trovare poi non funziona più c'è un pezzo di codice che non funziona non viene interpretato e quindi non funziona più quindi diciamo che noi abbiamo un oggetto book da quello di prima abbiamo messo titolo autore eccetera non sappiamo se esiste una proprietà o no e vogliamo andarla a scoprire come facciamo beh possiamo provare a scrivere che so book.author per vedere se esiste la proprietà author ok questo non è un errore che ci ci fa bloccare il programma in javascript semplicemente se non esiste author viene fuori il valore undefined che noi possiamo tranquillamente testare possiamo testarlo per esempio in un if ricordate l'altra volta abbiamo detto cioè l'altro ieri abbiamo detto undefined è uno di quei valori falsi cioè che se messi in un'esposizione logica ci danno valore falso quindi se lo mettiamo in un if ci fa entrare nel ramo falso dell'if ok se però non è falsi possiamo allora provare a andare a vedere cosa c'è dentro usarlo perché se no avremo un undefined e dobbiamo usarlo come tutti i valori undefined cioè un non inizializzato e su un valore undefined non possiamo scrivere punto qualcosa è un po' come se scriveste che so in java avete un puntatore nullo contenuto nella variabile lo dereferenziate quindi pensate che sia un oggetto o c'è un'istanza e volete accedere ad un certo campo vi viene fuori l'errore null punter exception e queste cose qua e qui la stessa cosa quindi quando accediamo a delle proprietà di un oggetto dobbiamo essere sicuri che esista ovviamente qui book author author non è più la stringa di prima ma abbiamo immaginato che sia un altro oggetto che ha una proprietà surname e cognome quindi diciamo che nel momento in cui non sappiamo bene come trattare che so l'oggetto book e volessimo andare a essere sicuri che nel nostro codice non succede nulla di sbagliato se certe proprietà non esistono possiamo fare in questa maniera if book quindi book se è inizializzato quindi non ho solo scritto let book e basta che sarebbe undefined ho scritto let book uguale aperta grafa qualcosa if book.author quindi se esiste book author allora vado a prendermi surname book author surname ok e se non esiste e vabbè surname questa istruzione non viene eseguita quindi surname avrà il valore che era stato impostato inizialmente nel codice cioè non è entro nell'if e quindi succede quello che in tutti i codici succede se non è entro nell'if non eseguo quell'istruzione ecco vi faccio vedere questo esempio perché perché c'è una maniera più compatta di scriverlo che di nuovo è abbastanza comune qui vediamo appunto i pattern comuni di programmazione in javascript che è questa di sotto cioè questo codice equivalente a questo codice di sotto molto più compatto surname uguale book and and book.author and and book.author surname questa cosa non si blocca in nessun caso se non esiste surname se non esiste author dentro book e così via perché? perché la valutazione si blocca al primo elemento che da undefined quello lì è la valutazione dell'espressione viene messa a sinistra dentro surname e surname conterrà il risultato di questa valutazione se arriviamo fino alla fine in surname verrà messo l'ultimo valore e che quindi sarà effettivamente il cognome che abbiamo scritto dentro l'oggetto ok ancora due o tre parole poi magari andiamo a fare qualche prova che sono il python tutor se io ho bisogno di girare sulle proprietà di un oggetto ecco uso il for in che l'altra volta vi ho detto di non usare mai questo è l'unico caso in cui può essere utile usare il for in perché non ho un'altra maniera di girare sulle proprietà dell'oggetto come faccio a enumerarle diciamo ci sono dei metodi in object però diciamo per enumerarle da programma con un for e l'unica cosa che ho è questo for in ok però occhio che se lo fate su un array non funziona come vi aspettate perché i valori dell'array non sono proprietà ok quindi non viene fuori quello che ci aspetteremmo quindi ecco possiamo scrivere una cosa di questo tipo magari ecco questa andiamo a provarla perché è carina quindi abbiamo il nostro book autore pagine e pagine dei capitoli così abbiamo messo dentro un tipo che non è solo primitivo abbiamo messo dentro un riferimento a un array vogliamo stampare tutte le proprietà del libro e possiamo farlo e possiamo farlo in questa maniera proviamolo perché ci ripassa un po' quello che abbiamo visto l'altra volta e quindi let book eccetera faccio direttamente copia però vado sul python tutor poi tra un po' apriamo il nostro ambiente di programmazione quindi il visual studio code però per fare queste prove è ancora bello il python tutor perché ci fa vedere graficamente cosa succede ok quindi andiamo a vedere ok use strict lo sapete non fa niente book abbiamo definito book book è una variabile che ha al suo interno un riferimento a che cosa un oggetto l'oggetto che qui nel python tutor viene rappresentato come una serie di proprietà uguale valore proprietà a sinistra valore a destra autore Enrico pagina 340 chapter pages cos'è? è il vettore il vettore è un altro elemento e quindi è da qualche parte nella memoria di javascript io l'ho definito qui direttamente quindi mi è stato già creato e in chapter pages ci finisce il riferimento a questo array ok quindi questa espressione ha creato questa struttura di dati nella memoria di javascript e poi giro sulle proprietà quindi col for in io qui ho scritto in e quindi giro sulle proprietà le proprietà dell'oggetto l'oggetto è questo book o meglio è il riferimento all'oggetto e quindi girerà su author pages e chapter pages ok cosa c'è a sinistra di in c'è una variabile di servizio che io uso per contenere il nome della proprietà ok come avevamo fatto l'altra volta c'era il for valore i valore off vettore e in valore ci veniva di volta in volta il primo il secondo il terzo il quarto valore del vettore ok e qui la stessa cosa dopo torniamo sul const vediamo la stampa allora qui console.log è la print diciamo così del del javascript quindi posso passare uno più parametri quindi passo uno solo passo una stringa una stringa definita come template literal ricordate l'altro ieri abbiamo parlato di tre modi di definire stringhe apici singoli apici doppi e poi c'era il back tick questo apice a rovescio questo apice a rovescio ci consente di inserire dentro la stringa delle espressioni javascript come dollar aperta graffa quindi questo non è un oggetto è solo una maniera di andare a inserire espressioni javascript dentro una stringa ok di solito per non complicare troppo il codice mettiamo espressioni semplici come il valore cioè come direttamente il nome di una variabile e quindi questo verrà sostituito dal valore di quella variabile oppure un'espressione semplice come l'accesso ad una proprietà di un oggetto book aperta quadra prop ci va a prendere nell'oggetto book la proprietà di nome prop che all'inizio sarà author poi sarà pages e poi sarà chapter pages quindi questa cosa al primo giro mi stamperà adesso non so cosa prende se per primo author pages e chapter pages perché non sono ordinate vi ricordo che non sono ordinate per cui non potete farci assunzioni sopra adesso vediamo mi ha preso author e mi ha messo quindi author e poi ha fatto book di Enrico quindi il valore di prop no scusate book di author e ha preso il valore che è Enrico facciamo un altro giro valore di prop pages allora pages uguale book di pages verrà fuori 340 ok e la terza volta ci viene fuori tutto l'array perché ci viene fuori tutto l'array ma perché semplicemente per comodità il console log quando si passate o meglio anche anche questa espansione dollaro graffa quando passate degli oggetti complessi ve li espande e quindi se un array vi stampa l'array se un oggetto vi stampa tutto l'oggetto ok quindi questa è una comodità ma noi giochiamo adesso con il console log e poi il console log non lo useremo più nella nostra programmazione non è che siete sempre lì a usarla print in C cioè se sviluppate un programma linea di comando che stampa sul terminale sì però se fate qualcosa di più complicato poi avrete un'interfaccia qualcosa dove mettete il vostro output ok ultimo aspetto che ci resta da discutere perché scrivo cost prop non let prop in realtà è lo stesso volevo solo farvi vedere che questo for come tanti altri ad ogni giro ricrea la variabile ok quindi in realtà noi la possiamo anche definire cost perché è una variabile diversa viene ricreata ad ogni giro ok e diciamo è un'abitudine che molti hanno di scrivere così in javascript non so se ha più di tanti vantaggi forse ha il vantaggio che magari se dentro il codice del fora adesso qui non abbiamo aperto le graffe se ci fossero più istruzioni dovremmo aprire le graffe se per caso ci sbagliamo facciamo proprio uguale qualcosa ci dà un errore e quindi magari ci accorgiamo del fatto che non è forse quello che volevamo scrivere no perché cambiare la variabile di controllo a meno che non sia un contatore come se facessimo for let i uguale a 0 i più più eccetera di solito non si fa nei cicli no e quindi è una maniera di proteggersi da questo eventuale errore e che è abbastanza usata ok quindi abbiamo già visto una cosa un po' particolare se avete dei dubbi mi raccomando chiedete se no andiamo avanti e ecco vedremo andando avanti in javascript che ci sono alcuni metodi predefiniti nell'ambiente javascript quindi proprio nel linguaggio abbiamo già visto mat abbiamo già visto array array off array from adesso vediamo object object che è un oggetto predefinito quindi voi aprite l'ambiente di esecuzione javascript iniziate a scrivere il vostro programma e questo è già definito non dovete fare nulla ha dei metodi keys entries che ci ritornano direttamente tutta la lista delle chiavi noi le abbiamo chiamate proprietà dell'oggetto in quel momento perché se poi io dopo ne aggiungo una rifaccio keys e viene fuori una ne cancello una e non viene più fuori nella lista e così via oppure le copie key value dei mio oggetto ok quindi se applicato all'oggetto di prima in realtà trascurando il chapter pages quindi ne avessi solo due viene fuori una lista una lista un array con due stringhe author e pages e se invece facciamo entries viene fuori author pages ma ogni entry è a sua volta un array possiamo provarlo guardate facciamo così visto che ce l'abbiamo ancora aperto facciamo console log object entries era entris giusto sì che non me lo evidente va bene cos'era book facciamo una prova allora andiamo alla fine cosa vuole entris è una di quelle cose che ovviamente capitano così live allora vediamo strano keys entriamo con keys close forse non si chiama entris bisogna che andiamo a cercare ecco ecco di solito quando abbiamo dei dubbi andiamo sulla mozilla developer network entris va scritto entris vabbè comunque adesso non lo so magari il python tutor non lo implementa o non lo so cosa hanno combinato ecco così ne approfittiamo per vedere la guida di javascript io vi consiglio di andare appunto sulla mdn che è la mozilla developer network perché troviamo tutti i metodi standard di javascript e sono ben documentati e quindi c'è la descrizione e sotto poi c'è anche la sintassi cosa prende questo è semplice prende un oggetto non c'è tanto da discutere però ci sono i parametri opzionali quanti parametri prende il valore di ritorno eccetera eccetera ma soprattutto c'è un esempio è un esempio di solito abbastanza ben fatto quindi se volete andare a vedere come funziona ok possiamo potete andare qui ok poi è chiaro che cerchiamo in internet si trova di tutto no quindi vabbè c'è javascript.info che è anche abbastanza ben fatto però diciamo che se no cercate in giro sui vari blog stackoverflow e così via e vi fate un'idea però questa è la guida di riferimento ok ok vabbè poi studieremo cosa ha entries forse solo nel python youtube se dobbiamo copiare oggetti cosa facciamo come stesso problema di l'altro ieri dobbiamo copiare degli array occhio non basta assegnarli perché perché se no andiamo a finire in questa situazione dobbiamo fare un altro sistema il sistema più classico per copiare l'oggetto è object.assign aperte choose graph cioè all'oggetto vuoto andiamo ad aggiungere book quindi questo assign prende un numero variabile di parametri prende il primo oggetto gli aggiunge tutte le proprietà del secondo poi tutte le proprietà del terzo tutte le proprietà del quarto eventualmente sovrascrivendo i valori come faccio a sognarmelo questo ve l'ho dato però di nuovo dove era object.assign assign cerco su google perché faccio prima che andare a cercare nella mdn ok quindi copia tutte le proprietà numerabili vabbè diciamo degli oggetti a destra quindi ce ne sono tanti ne posso mettere uno in caso più classico ma anche più di uno e le copia nel primo se il primo è l'oggetto vuoto creo un nuovo oggetto copia del precedente proviamo nel python tutor quindi togliamo un po' di roba e facciamo let book book2 uguale object assign aperta e chiusa graph a book ok così intanto vediamo un'altra cosa per la pubblicità vabbè ogni tanto ci becchiamo un po' di pubblicità andiamo alla fine ok mi ha copiato e mi ha fatto un secondo oggetto giusto author pages chapter pages quindi quando i valori delle proprietà sono tipi primitivi li copia non c'è niente di speciale un numero faccio una copia del numero quindi ci sarà un altro numero cioè lo stesso valore ma è un altro numero se io modifico il pages di book2 si modifica solo questo 340 e non il primo se invece sono tipi più complicati quindi tipi per i quali io immagazzino il riferimento come gli array l'array non viene duplicato perché come per gli array si fa una shallow copy cioè una copia a bassa profondità cioè solo al primo livello shallow vuol dire non in profondità bassa profondità se io voglio copiare l'array devo farlo esplicitamente ok non ho altro modo ok quindi se volessi farlo che so giusto per farvi un esempio è solo per dire ovviamente devo conoscere come è fatta la struttura del mio oggetto ok quindi devo sapere che in chapter pages c'è un array quindi devo andarmelo a copiare a mano io ok se no e se no devo o scrivermi una funzione più intelligente che mentre fa fa il giro sulle proprietà va a vedere se sono proprietà di tipo complesso allora ci va dentro ricorsiva eccetera o mi cerco una funzione di libreria da qualche parte non credo che nel linguaggio ce ne sia già una se non sbaglio comunque in javascript è pieno di diciamo di librerie utilizzabili discretamente ben fatte e me lo faccio fare da quella ok se non conosco ho come è fatto l'oggetto io qui lo conosco e quindi so che c'è una proprietà che contiene un array e quindi posso semplicemente fare così chapter chapter pages due punti e ci faccio array dunque cos'era il from book chapter pages spero che il from sia quello che prende l'array ok mettiamo a capo così è un po' più comodo da vedere vediamo il risultato ok cosa ho fatto questa object assign ha all'inizio l'oggetto vuoto prima cosa ci mette dentro book e quindi ci ritroviamo nella condizione di prima con l'array singolo due frecce che puntano lo stesso array ma io ci copio dentro le proprietà di un terzo oggetto che ho creato io al momento aprendo la graffa e mettendoci un'unica proprietà che ha lo stesso nome dell'altro che mi interessa e dentro il nuovo array array from crea il nuovo array l'abbiamo visto l'altra volta lo vado a prendere dall'array che esiste quindi da book chapter pages cosa succede se questa proprietà ha lo stesso nome di una proprietà che già esiste in quello che ho già fatto la sovrascrive quindi ci va ad assegnare quel riferimento questo è proprio il metodo più classico per fare questa operazione c'è una domanda si si ci siamo ma non l'abbiamo ancora vista nelle slide tra poco la vediamo ok abbiamo vista per gli array ok però esiste anche per gli oggetti come ha detto il suo collega il vostro collega e dice per gli array semplicemente si si per gli array possiamo farla quella l'abbiamo vista quello che intendeva che poi possiamo giocarci anche con gli oggetti quindi il vostro collega suggeriva questo credo ok proviamolo e va benissimo stesso risultato ok grazie così ci ha ricordato l'operatore spread che abbiamo visto un'altra volta così ci avvitiamo l'array from è equivalente per il codice che scriviamo noi però è vero è più idiomatico è più javascript ok ci piace poco vedere object assign piuttosto che appunto array from array off eccetera perché sono metodi statici è più voglio dire brutto però è più carino vedere tre puntini qualcosa è più incomprensibile quindi fa più javascript se così vogliamo dire ok quindi abbiamo discusso della copia non c'è niente di particolare da dire di fatto abbiamo provato questo esempio poi ve lo guardate con calma ma anche qui c'era diciamo che qui c'era un cos'era sourcebook aveva fatto un riferimento a un oggetto anziché un riferimento a un array ma è la stessa cosa quindi infatti se l'erano copiato study2 con object assign study per fare la duplicazione dell'oggetto e poi però devo devo duplicarmi il secondo oggetto se voglio se lo voglio fare perché dipende dalla logica del mio programma ok quindi questo l'abbiamo visto l'abbiamo visto anche sulla pagina di manuale quindi sapete dove andarvi a cercare le informazioni in una fonte autorevole che non sia appunto l'ultimo tizio che scrive su ste cover flow con tutto rispetto però diciamo dobbiamo avere delle fonti autorevoli ogni tanto c'è lo standard e c'è qualcuno che dice come funzionano le funzioni dell'ambiente standard javascript ok quindi di fatto questo questa object a 6 ci consente anche di fare il merge delle proprietà nel senso che vengono sovrascritte da sinistra a destra come abbiamo appena fatto quindi io le slide ve le lascio come riferimento ma facendo le prove noi insieme diciamo ci risparmiamo un po' di slide noiose e poi diciamo impariamo forse anche di più ecco questo che ho confuso un attimo prima con il vostro collega parlandone con il vostro collega appunto abbiamo visto i tre puntini per gli array esistono anche i tre puntini quindi lo spread per gli oggetti l'unica cosa non è ES6 ok ES9 che vuol dire dal 2018 ma per noi va bene lo stesso nel senso che sia il python tutor sia python tutor è un giocattolo sia il node.js che abbiamo fatto installare l'ultima versione ma anche le versioni precedenti da tanto che esiste sia in react avremo la possibilità di usare questi sintassi ok anche se non sono ES6 perché perché in realtà react che è poi la cosa che ci interessa di più perché poi facciamo l'applicazione in react quando noi carichiamo il sito la prima volta fa la transpilazione che abbiamo detto essere la traduzione del codice più recente quindi questi tre puntini sugli oggetti in codice più vecchio ES6 così è compatibile con tutti i browser in realtà i browser moderni sono già compatibili S8, S9 eccetera però così stiamo tranquilli e non dobbiamo preoccuparci di questa cosa noi scriviamo con un javascript moderno e sappiamo che funziona ok quindi facciamo un po' la prova quindi trasformiamo il codice di prima con lo spread cosa vuol dire? vuol dire che sostanzialmente anziché farci l'object assign ci facciamo il giochino che il book 2 allora lasciamo un attimo da parte i chapter ok anziché object assign ci facciamo aperta graffa tre puntini book ok e questo ha creato la shell copy dell'oggetto ops ho sbagliato quel book no ah c'è S6 uh che disgrazio vabbè andiamo ci ha fregato eh andiamo a aprire l'ambiente di programmazione eh tanto prima o poi dobbiamo aprirlo noi vi abbiamo consigliato di usare in questo corso il visual studio code è la cosa che riteniamo migliore ormai è tre anni che lo usiamo quindi diciamo siamo abbastanza tranquilli come si usa eh allora lo aprite cioè lo installate c'è nelle maggiori cioè se siete in linux si può installare beh andate sul sito diciamo c'è il suo repositor è la cosa migliore così ve lo tieni anche aggiornato eh se siete in windows o mac andate sul sito lo scaricate installate e fine qui sarà tutto vuoto vi create un nuovo file e cominciate a giocare ok io adesso ho creato un po' di file perché poi nella lezione così facciamo prima e vi faccio vedere alcune cose diciamo che è un file vuoto ho preso questo test js che così tra poco mi metto online e ci scriviamo il nostro codice quindi anzi copiamo va che facciamo prima cerchiamo di essere efficienti ah sì facciamo così copia quindi adesso diciamo che cominciamo a abbandonare il python tutor tanto abbiamo visto la struttura il python tutor ci serve per le frecce per capire dove vanno le frecce e i riferimenti a dove sono gli oggetti e gli array ok quindi salvo file save poi c'è il ctrl s va bene però me lo faccio vedere almeno una volta poi come facciamo eseguirlo uno dei modi più semplici è andare sotto qui sotto c'è il terminale il terminale è una shell facciamo clear così non ci distrugga è una shell deve essere nella directory dove c'è il file e quindi occhio eh perché se la lanciate in un posto dove non c'è il file vi dice non c'è il file però l'errore è un po' strano e quindi tipo se io faccio così nod cos'era tests adesso non c'è non vi scrive non c'è il file che è not file module cos'ha 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 e adesso non è la directory sbagliata non ha niente di particolare ok se io faccio nod test js beh in realtà non vedo niente perché non ho stampato nulla facciamo così me lo stampo console log book 2 ok quindi salvo e lo lancio si vede si vede un po' più grande ok mi stampa l'oggetto il book 2 ed è un oggetto diverso da book eh adesso o usiamo il debug ma volevo aspettare ancora un istante oppure ci facciamo una modifica sopra che so book 2 eh punto vedete questo è l'ambiente di sviluppo no mettiamo punto e ci aiuta un pochettino come tutti gli ambienti di sviluppo eh cosa facciamo pages mettiamo 10 ho scritto un libro cortissimo ok eh facciamo la stampa di book e book 2 quindi book e book 2 ok salvo il primo è la prima stampa no il secondo la seconda stampa è il book questo book e il terzo è il terzo oggetto è il book 2 no noi abbiamo modificato book 2 che è un oggetto diverso quindi ha i valori delle proprietà differenti infatti solo sul book 2 trovo 10 e non lo trovo sul book ok se io avessi scritto avessi scritto book 2 uguale book e basta ok facciamo questa prova ultima prova questo è book e questo è book 2 condividono l'oggetto ok sono riferimenti allo stesso oggetto quindi se modifico uno si modifica anche l'altro perché in realtà ho modificato la stessa cosa ok quindi occhio occhio a queste cose ma diciamo sono abbastanza ehm come dire ehm comuni nei nei linguaggi di programmazione dove abbiamo questi riferimenti agli oggetti complessi no se non diciamo esplicitamente di duplicare l'oggetto l'array questo non viene duplicato ok bene quindi abbiamo visto lo spread che funziona per gli oggetti ma solo in S9 il python tutor ha già l'S6 ma noi avremmo sempre a disposizione l'S9 e possiamo usarlo come negli array vi ricordate in maniera anche un po' più sofisticata quindi non solo per espandere basta un intero oggetto ma possiamo espanderlo dentro un altro oggetto possiamo quindi facendo anche altre cose quindi qui virgola title eccetera ci aggiungo un'altra proprietà o eventualmente sovrascrivo una proprietà e così via e posso usarlo anche a sinistra il bello di javascript è che molte cose funzionano anche a sinistra dell'uguale quindi se io scrivo A B spread others A B mi vengono estratti e in others ci finisce tutto il resto ok che è molto comodo perché poi avremo a che fare tanto in javascript con gli oggetti oggetti che passiamo con una serie di proprietà di cui ci interessa magari solo una proprietà quindi noi la estraiamo però non vogliamo perdere tutto il resto e ce la mettiamo semplicemente con lo spread automaticamente in un'altra variabile ok questo è un esempio l'altro esempio classico dove c'è bisogno di queste cose è il numero di parametri variabili di una funzione come faccio a gestire una funzione che ha un numero variabile di parametri mi estraggo che so il primo 1 e 2 un po' come la print la print è la prima cosa la stringa in c io mi estraggo la stringa che mi dice come la devo lavorare e poi ci metto in un'altra variabile se potessi c ma non posso vabbè ma nel resto ci metto tutto il resto dei numeri di parametri variabili che devo poi usare con un for con qualcosa per con un ciclo per andare a fare le operazioni descritte dal primo parametro ok quindi è molto molto comodo questo ci evita di scrivere una serie di for che non finiscono più ok quindi bisogna un po' entrare nella logica e capisco che all'inizio è un po' sconvolgente se non avete mai programmato in javascript nel senso che mi ci va un po' di tempo un po' di prove per entrare in questa logica non è immediato però dobbiamo conoscerla perché è efficiente e poi tanta roba che trovate in giro è scritta in questa maniera per cui se voi aprite appunto ste cover come faccio a fare questa cosa e ci trovate due o tre righe con appunto un paio di spread e non ci capite più niente e magari era la maniera ottimale facile e semplice di fare la cosa e voi andate a cercare il codice alto così con quattro for che fa la stessa cosa e sprecate tempo a scrivere tanto codice che può più codice scrivete più ci si può sbagliare e così via quindi sono tutti i soliti problemi della programmazione quindi bisogna cercare di fare un po' attenzione e entrare in questa logica l'in l'abbiamo già detto vabbè questo lo potete provare io non starei a provare però appunto se poi usate un in su v scoprite che b non è l'elemento ma è la proprietà e questo vettore non ha una proprietà b e quindi viene false è finito ok ma non c'è non c'è granché da capire di solito non scorriamo noi a mano le proprietà degli oggetti il massimo che facciamo è questi giochini qui e se qualcosa non c'è come abbiamo detto prima avremo undefined al massimo testiamo per undefined magari neanche con l'if direttamente in qualche espressione logica è commerciale commerciale qualcosa e tiriamo fuori il fatto che c'era o non c'era quella proprietà quindi anche per scoprire se c'è una proprietà mi faccio un giro col for in a vedere sì allora esco col break eccetera questa è la logica c che dobbiamo un po' dimenticarci ok quindi come creiamo gli oggetti riassumiamo un po' la cosa più semplice è aprire la graffa vogliamo creare uno vuoto aperto e chiuso la graffa vuote come aperto e chiuso quadra vuote per l'array c'è anche il costruttore non lo usa nessuno e c'è l'object create che di nuovo non lo usa nessuno oppure c'è la funzione costruttore che vediamo alla fine ok che è diciamo un po' più simile ai linguaggi di programmazione classici a oggetti però però non è che ci crea un oggetto classico è sempre un oggetto javascript quindi è solo la maniera di scriverla che ci sarà dis qualcosa dis.author dis.pages eccetera che ci ricorda la programmazione oggetti classica ma l'oggetto è sempre uguale viene fuori sempre lo stesso tipo di oggetto e non ha il tipo soprattutto non ha il tipo perché la classe non esiste ok avrà un prototipo che però diciamo non ci serve alla fine del corso non so neanche se lo vedremo ok quindi abbiamo detto più o meno tutto quello che ci serve a sapere sugli oggetti e adesso tenete pazienza ancora un po' di teoria e poi nella seconda parte vi prometto che pacciochiamo solo su esempi funzioni funzioni sono importantissime in javascript perché sono l'elemento chiave di javascript bisogna conoscere non bene ma benissimo ma vedrete che le imparerete perché senza le funzioni non si combina nulla in javascript soprattutto in framework web come appunto react e così via perché queste funzioni sono riferimenti che dobbiamo passare a destra a sinistra possiamo passarli come parametri di funzioni possiamo farli ritornare dalle funzioni possiamo far funzioni annidate possiamo ritornare delle funzioni create dentro altre funzioni da funzioni quindi facciamo delle cose che diciamo nell'ecosistema javascript sono molto utili però bisogna capire bene ecco una cosa importante le funzioni che le funzioni sono una maniera di creare uno scope privato in javascript vi ho detto prima non esiste niente di privato è vero fino a un certo punto nel senso che questa è la frase che contraddice quello se io voglio ottenere qualcosa di inaccessibile all'esterno quindi accessibile diciamo in maniera solo controllata come voglio io come ho programmato io in javascript devo metterlo dentro il codice di una funzione perché le funzioni quando io apro la graffa creano uno scope e quello scope è privato da quello scope non esce nulla cioè io definisco una variabile definisco qualcosa dei riferimenti eccetera questi variabili riferimenti eccetera non sono accessibili all'esterno a meno che io non lo voglia esplicitamente cioè il ritorno dalla funzione ok quindi è l'unica maniera che abbiamo in javascript di tenere qualcosa privato e sapete che nei linguaggi di programmazione oggetti diciamo tenere qualcosa privato può essere utile perché così evitiamo che chiunque in qualsiasi punto del suo codice possa andarci a toccare una cosa che non volevamo fosse toccata tipicamente le proprietà di un oggetto però un oggetto classico manipolabile solo con i metodi che fornisco ok le funzioni accettano i parametri anche il numero variabile le funzioni ritornano un unico valore ma questo non è un limite perché in javascript il valore può essere qualsiasi cosa quindi può essere numero string eccetera ma può essere anche un array può essere un oggetto può essere anche una funzione come dicevo prima ok può essere un oggetto che contiene delle proprietà che puntano delle funzioni può essere di tutto per cui il fatto che ritorni un unico valore non è un problema le funzioni stesse sono oggetti in javascript possono essere assegnate una variabile possono essere passate possono essere usate come valore e faremo tutte queste cose sicuramente come facciamo a dichiarare le funzioni ci sono quattro maniere in javascript quindi capite già l'importanza nelle funzioni ci sono quattro maniere allora c'è la parola chiave function la più classica con un nome diamo un nome alla funzione e quella funzione da quel momento comincia a esistere e poi la chiamiamo do con i due parametri e questa funzione ci darà il suo valore di ritorno quindi esempio funzione facciamo il quadrato di x let y x per x return y la funzione che fa il quadrato del numero che passiamo ok niente di particolare cioè non mi sembra neanche il caso di provarlo no perché c'è niente da capire se non il fatto che la x dopo che ho eseguito la funzione è sparita ok e anche la y per la verità x e y x è il parametro della funzione e comincia a esistere nel momento in cui incomincia a eseguire la funzione e y è stato definito ad altra funzione quindi dentro lo scope privato della funzione sparisce il termine l'abbiamo intravisto l'altra volta non ci ho messo l'accento sopra perché appunto tanto ne discutiamo molto adesso quindi niente sono normali funzioni siete capaci di usare funzioni come faccio a dire che ci sono più parametri virgola solita maniera posso avere dei valori default per i parametri e li metto qui nella definizione della funzione quindi se il valore di default è b è 1 se non passo b prende 1 quindi dentro al codice della funzione mi ritrovo b col valore 1 i parametri sono tutti passati per valore come funziona javascript e per valore cioè vuol dire che i tipi primitivi le string sono copiate i numeri sono copiati i boolean sono copiati il nulland poi sono copiati ma non è che ci va tanto invece gli oggetti gli array e le funzioni vengono copiati nel senso che viene copiato il riferimento cioè quella freccia punta sempre la stessa cosa io la passo diventa accessibile tramite quel riferimento alla funzione ma l'elemento è sempre lo stesso quindi copiato per riferimento se sono oggetti array funzioni ops ciò che non è passato nella funzione prende il valore undefi cioè io posso avere una funzione con due parametri e chiamarla con un solo parametro questa cosa in molti linguaggi crea un errore mi dice non puoi chiamare la funzione ha due parametri devi darmene tutte e due a meno che non so ci ho messo il valore default va bene se io qui scrivo function a e b e poi la chiamo solo con a si può in javascript si può tante cose si possono purtroppo per fortuna dal punto di vista che valore a b se non l'ho messo undefined abbiamo questo undefined è una variabile non inizializzata quindi undefined e questo vuol dire che posso scrivere delle funzioni anche relativamente flessibili una funzione che posso che ha due parametri che però posso chiamare sia con un parametro sia con due e nel codice posso anche fare il test if p triplo uguale undefined allora p non so lo uso in una certa maniera parametro non so ci metto il mio valore default o non so faccio qualcosa che tra l'altro punto magari trovate scritto come sotto come abbiamo visto l'altra volta quindi con il lor logico che vuol dire se p undefined prendi il secondo valore che è il valore default e ce lo metti in p ok quindi occhio bisogna solo prenderci la mano non è che siano cose così complesse dal punto di vista della comprensione ok posso avere anche un numero variabile di parametri ecco vengono fuori quei tre puntini qui l'unica cosa li chiamano l'operatore rest non è un operatore spread nel senso che lo spread è solo negli assegnamenti e se lo mettiamo qui nella funzione lo chiamiamo rest ma funziona nella stessa maniera infatti è come se prendessimo ciò che abbiamo passato tutto ciò che non ci sta lo mettiamo dentro array un po' come se fosse un assegnamento ma l'ho voluto chiamare rest quindi se io volessi fare una funzione che prende un numero variabile di parametri e li somma tutti quanti potrei scriverlo in questa maniera ho un valore iniziale fisso che passo sempre va bene quindi sum initial value poi for let ah off mi raccomando off non in off ar perché questo diventerà un array non diventa un oggetto diventa un array ok perché i valori che passano alla funzione non hanno un nome sono solo ordinati quindi un array sum più uguale a e return sum e va bene quindi valore iniziale 0 2 più 4 6 5 11 va bene lo provate questo si può provare col python tutor eccetera però insomma sono esempi veramente banali ok questa è la funzione metodo 1 di definire la funzione metodo 2 non dargli un nome function e basta senza un nome però è chiaro che se non ha un nome devo avere un riferimento se no è una cosa che esiste che non posso accedere e quindi la assegno a una variabile ok quindi la assegno a una variabile è tipicamente const perché di solito non ridefinisco la variabile che contiene riferimento a una funzione perché se no poi non so più a quale funzione fa riferimento però diciamo in linea di massimo cost è ragionevole ed esattamente come prima anziché chiamarla col do la chiamerò con fn aperta e chiusa tonda ok posso anche dargli un nome solo che questo nome non serve più a niente ok perché perché nel momento in cui l'assegno diventa accessibile solo più tramite il suo riferimento ok quindi facciamo un esempio let cube function c ok quindi avevamo il quadrato e quella di prima let cube function c qui abbiamo già fatto let mi piace poco va bene const cube fa niente let y uguale square x per x return y va bene come la chiamo la chiamo cube 4 cube è la variabile dopo la variabile posso aprire e chiudere la tonda ok chiaramente se è un numero se contiene un numero una stringa o un array e questa roba dà errore però se contiene riferimento una funzione funziona ok quindi questa è già una prima cosa da tenere a mente in javascript che nelle variabili posso avere dei riferimenti a delle funzioni è un po' come se aveste il puntatore a funzione in c se volete solo che in c è esplicito c'è il tipo eccetera il compilatore controlla come l'ho chiamato eccetera qui uno controlla solo se c'è dentro una funzione c'è dentro una funzione si chiama ok quindi l'espressione function aperta e chiusa tonda aperta e graffa chiusa e graffa crea un nuovo oggetto di tipo funzione e ritorna il risultato questo risultato è la funzione il riferimento alla funzione e quindi lo posso assegnare come qualsiasi altra cosa ok quindi qualsiasi variabile può riferirsi alla funzione e chiamarla no posso metterla dove mi pare posso infilarla negli array posso infilarla negli oggetti anzi negli oggetti di solito la infilo perché se faccio un oggetto e nome della proprietà due punti e c'è una funzione quello mi è diventato un metodo perché poi scrivo oggetto punto proprietà per tatonda ho chiamato il metodo ok se la passo come parametro una funzione rimane sempre una funzione l'unica cosa che in stile javascript la chiamiamo callback javascript e tanti altri linguaggi però diciamo passare una funzione a un'altra funzione è un modo per dire di solito la funzione chiamami questa quando hai finito o chiamami questa quando succede qualcosa ed è una cosa che faremo di continuo nella programmazione web perché la programmazione web è una programmazione a eventi l'utente fa qualcosa come facciamo a sapere quando l'utente ha fatto qualcosa ci facciamo chiamare una funzione e per farci chiamare una funzione che vogliamo noi cosa facciamo registriamo la funzione cioè chiamiamo un'altra funzione passando la funzione che vogliamo sia chiamata quando l'evento si scatena ho un click quando uno fa click prima che venga fatto click il caricamento della pagina diamo una funzione da chiamare questa funzione non so ci fa console log ci fa boh non lo so mette della roba nella memoria in un array e così via questa funzione la passiamo come parametro ok in questo caso si chiama callback perché ci verrà chiamata indietro al momento opportuno ok ma questa è solo terminologia dal punto di vista javascript sono tutti oggetti uguali sono tutte funzioni ok ma potremmo provare questo codice visto che siamo dov'è visto che siamo qua anzi proviamo l'ultimo ma così facciamo un'unica copia e incolla terzo ultimo metodo in realtà sono quattro appunto però questi due sono sostanzialmente equivalenti terzo ultimo metodo della definizione della funzione di tipo freccia arrow function arrow vuol dire freccia e molto simpaticamente chi programma ha deciso che uguale maggiore è una freccia e quindi per scriverla dobbiamo usare questo simbolo speciale che è una freccia uguale maggiore che mi raccomando è diverso dal maggiore uguale maggiore uguale è l'operatore di confronto e lo potete usare negli if in queste espressioni questo è uguale maggiore che non è da confondere con l'altro e non potete scrivere maggiore uguale ovviamente se avete bisogno di maggiore uguale dovete scrivere maggiore uguale questa è una freccia e funziona come prima l'unica cosa è che viene messa al posto di function lo vedete infatti abbiamo messo in giallo con la freccia non possiamo dare un nome alla funzione quindi più che assegnarla a una variabile non possiamo fare quindi esattamente quello che facciamo qui nel caso 2a dal punto di vista di javascript sono equivalenti quasi e quasi lo vediamo al momento opportuno però per oggi in questo momento sono equivalenti hanno un comportamento leggermente diverso quando abbiamo a che fare con degli oggetti eccetera ma al momento opportuno lo vedremo ok quindi come si definisce si apre una parentesi tonda senza nomi quindi senza function apriamo la parentesi tonda mettiamo i parametri chiudiamo la parentesi tonda freccia aperta graffa e scriviamo il nostro codice come prima return quello che vogliamo ok ci saranno sintesi ancora più brevi perché a javascript piace accorciare a chi ha programmato javascript piace accorciare quindi qui abbiamo tre funzioni definite in tre maniere diverse ma funzionano tutte alla stessa maniera cioè sono tre funzioni uguali per javascript cioè chiaramente fanno cose diverse però non è che c'è la funzione di serie A B C sono oggetti di tipo diverso sono tutti oggetti di tipo funzione ovviamente con un codice diverso quindi facciamo la funzione quarta potenza forth uguale parametro freccia return square per square ok e poi e poi ci facciamo fare il conto facciamo la prova ok dove la facciamo la facciamo ma facciamola in in visual studio code questo funziona in tranquillamente in in come si chiama in 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 python tutor ok ecco adesso così intanto prendiamo la mano con questo aggeggio e poi faccio un commit così intanto ho cominciato ad avere questo codice allora il bello di un ambiente come questo piuttosto che il python tutor è che un po' di indentazione un po' di queste cose ce la fa automaticamente no format selection mi mette a posto l'indentazione sento che non ci siano errori di sintassi perché è chiaro che se c'è una graffa sbilanciata una tonda poi non si capisce più niente bisogna metterla a posto ok quindi possiamo lasciare anche il codice di prima tanto non ci dà fastidio non è che ci mette tanto di essere eseguito facciamo solo console log n ok quindi abbiamo fatto la quarta potenza di 4 salvo eseguo node test ah undefined interessante bene console log n cosa che non va ah vedete questa è una delle cose pestifere di javascript vedete che questo l'ambiente vi aiuta già e non è colorato bene perché non è colorato bene perché sono andato a capo dopo un return sapete che l'altra volta abbiamo parlato di questa questione del punto e virgola in javascript punto e virgola in javascript noi lo vogliamo mettere esplicitamente javascript di solito non lo mette ma ci sono alcuni casi in cui lo metta automaticamente uno di questi casi pestiferi lasciatemi dire così è dopo il return se dopo il return non c'è niente mi ha messo punto e virgola come se io avessi scritto così e se io avessi scritto così e questo codice prende questa forma non ritorna nulla una funzione in javascript di default ritorna che io scrivo return o niente ritorna undefined ed è il motivo per cui ci è uscito undefined ok quindi se io l'eseguo così adesso tanto per provare facciamolo viene di nuovo undefined se anche tolgo return viene undefined provo sempre undefined ha il valore sempre di ritorno solo che è sempre undefined se non faccio niente allora adesso aggiustiamo come aggiustiamo posso aggiustare in due maniere ovviamente la cosa più ovvia facciamola per carità e metterlo sulla stessa riga vedete ha cambiato colore e adesso mi verrà fuori 256 4x4x4x4 la cosa forse meno ovvia ma perché ogni tanto vi faccio vedere ma solo così questo è proprio un giochino nel senso è ovvio no ma perché ogni tanto nello scrivere codice web poi ci viene utile o per evitare questi pasticci potete sempre mettere ciò che volete ritornare tra due parentesi tonde non c'è niente di male sono due parentesi tonde in più però impediscono di mettere automaticamente il punto e virgola quindi se io ci faccio così ovviamente se metto il punto e virgola poi devo mettere l'altra al suo posto e questa è colorata giusta e funziona ok adesso per non passioccare troppo anche perché dopo voglio fare una cosa io ve la metto sulla stessa riga ok e quindi la proviamo e ovviamente va ok ma è bene che ci capitino questi pasticci questi pasticci vi capiteranno a tutti i momenti in laboratorio se siete in laboratorio provate a cercare se volete che so provare a farvi venire un'idea ma ci siamo sempre noi io ho io i miei colleghi i borsisti c'è andato i borsisti quindi abbiamo un borsista sempre per ogni squadra di laboratorio quindi siamo tranquilli questo perché non sempre vengono assegnate tutte le borse ma quest'anno c'è andata bene l'hanno assegnati martedì e quindi c'è sempre qualcuno in grado di sperabilmente aiutarvi se non è un problema che non riusciamo a risolvere ma insomma di solito risolviamo soprattutto cose di questo tipo ecco ok allora prima di andare avanti vi faccio il commit di questo così cominciate a prendere la mano al fatto che io scrivo delle cose e poi ve le metto a disposizione io ovviamente ho già un po' preparato la situazione perché non voglio sprecare tempo a lezione che è preziosissima ne abbiamo poco quindi io adesso faccio ho già aperto il mio repository che è quella v1 wix e dentro c'è una cartella wix01 ho lavorato in un file questo test apposta adesso vi metto a disposizione questo test così vi faccio vedere dove vi finisce qui e intanto facciamo anche un attimo pratica col git non che sia fondamentale perché alla fine dovete solo consegnarci l'esame quindi si può prendere tutto quello che avete fatto caricare in una cartella cioè metterlo nella cartella da cui avrete clonato il repository che noi vi diamo per l'esame fare commit fare push mettere il tag final ok così lo consegno è finito ok quindi noi in questo corso non è che ci teniamo che voi usiate git però visto che ci sembra una cosa interessante forse ve lo spiegano poi anche in parallelo in un altro corso in software engineering mi sembra ma forse un po' più avanti visto che facciamo tante release tante versioni diverse delle cose eccetera ed è una competenza che fuori dal politecnico cioè quando andrete in giro a programmare o programmate già per quanto vostro serve tantissimo magari vale la pena di fare qualche prova noi in laboratorio vi possiamo aiutare in questo aspetto quindi allora io adesso faccio il commit il version control è già integrato in visual studio code questa è una bellissima cosa e questo bottoncino qui ma sì prima devo andare sul bottoncino e test devo per fare farlo andare su un repositori git aggiungerlo quindi col più questo lo faccio solo io al momento voi non dovete fare nulla quindi mi finisce in queste stage changes cioè quelle di cui si farà il commit adesso che faccio l'operazione quindi commit vuol dire prendo una copia la fossilizzo la blocco e questa resterà in eterno così e poi per metterla sul repositorio remoto devo fare un'altra operazione che si chiama push spingerla al repositorio remoto per fare il commit devo mettere un messaggio che è tipicamente quello che ho fatto no prima versione release in cui funzionano gli array release non so è al laboratorio 1 quello che volete quindi qui ci mettiamo prima primi test ok schiaccio commit mi raccomando poi il messaggio non è più modificabile una volta che avete fatto il commit e soprattutto il push perché va a disposizione di tutti quindi non scrivete idiozie e poi abbiamo nel menu push la possibilità di fare il push se c'è qualcosa che non va uscirà un messaggio se va come spero spero che vada ecco devo mettere solo la chiave adesso vi dico anche una parola sulla chiave spero che si l'ha preso spero adesso andiamo a vedercelo se viene fuori qui quindi in week 01 è spuntato test js ok quindi adesso ce l'avete a disposizione questa è una pagina web non avete bisogno di git volete scaricarvelo schiaccio raw e mi scarico il file con sua calma ok questo lo potete fare su qualsiasi computer che ingrate in questo momento adesso voi ok ultima cosa visto che parliamo di git ovviamente su questo repository voi non ci scrivete ci scrivo solo io ok per questo ho la chiave e devo devo usare la chiave devo metterla a password eccetera per poterlo usare git è gratuito vi create un account fate il vostro repository dall'interfaccia web ve lo clonate e poi lì sopra giocate come volete il vostro ok per l'esame forniremo noi il repository c'è questo github classroom in cui voi vi registrerete ma vi diamo poi tutte le istruzioni fate l'operazione di clone che io ho già fatto non l'ho fatta stamattina per non perdere tempo no e vi crea il repository vuoto con quello che abbiamo messo noi in realtà non è proprio vuoto ma ci sono due cartelle client, server e due file da riempire e voi ci mettete la vostra roba aggiungete tutto in stage commit push tag per se volete consegnare e fine ok ci saranno le istruzioni ok per il resto provate voi decidete se volete usarlo o no o no potete potete fare tutti i commit che volete noi considereremo quello taggato l'ultimo di solito che è quello che volete consegnare la storia non ci interessa potete usarlo o un reposito alla vostra disposizione lo usate come vi pare ok chiusa la parentesi vediamo di dire ancora due parole sulle funzioni poi facciamo un po' di pause poi andiamo a finire le slide e fare un po' di esercizi quindi abbiamo provato questo codice facendo attenzione a questa disgrazia quando fate copia e incolla dalle slide vi può succedere questa cosa queste cose come passiamo i parametri alle arrow function questa è una cosa interessante perché ci concentriamo sulle arrow function non solo perché sono la forma più carina questa freccia piace tanto ma perché sono anche molto usate perché tutti i momenti in javascript abbiamo bisogno di scrivere una funzione anche magari pure usa e getta da usare solo una volta una funzione vuota perché quello che usiamo si aspetta come parametro una funzione aperta e chiusa tonda freccia aperta e chiusa graffa quella è una funzione vuota e la passiamo e via se non dobbiamo fare nulla però dobbiamo passare a una funzione allora come si scrivono si scrivono in questa maniera come abbiamo visto noi aperta e chiusa tonda freccia aperta e chiusa graffa eventualmente vuota questa è una funzione valida è solo una funzione vuota è come se in c aveste scritto non lo so void void funzione aperta tonda chiusa tonda aperta tonda void chiusa tonda secondo come volete scrivere bene in c aperta e graffa chiusa graffa fine la funzione vuota non fa niente non prende nessun parametro è buono si possono anche mettere i parametri fuori dalle parentesi se c'è un solo parametro ok quindi se ho un solo parametro posso scrivere la funzione senza mettere le parentesi tonde intorno al parametro solo con l'error function se scrivo function la keyword function devo mettere parentesi ovviamente questa cosa piace tantissimo ai programmatori se invece appunto ho due parametri ho i valori default eccetera devo mettere le parentesi tonde le parentesi graffe è bene metterla ma si possono omettere dov'è che è? sì se c'è nel codice della funzione un unico valore che viene calcolato e non metto le graffe questo automaticamente viene preso come valore di ritorno quindi uno strappo alla regola di prima la regola di prima era se non diciamo nulla allora il ritorno è undefined nelle arrow functions se calcolo un valore e basta nella parte diciamo body della funzione questo è il valore di ritorno ok? se apro una graffa però devo scrivere return perché non mi basta più calcolarlo se io apro graffa non è che posso aprire graffa e scrivere square per square questo non è più il valore di ritorno perché ho aperto la graffa allora il valore di ritorno è undefined a meno che io scriva return e qualcosa se non la apro va bene così ok? ovviamente questa cosa fa impazzire che il programma javascript impazzire dà la gioia diciamo così se così possiamo dire si può ritornare un unico valore va bene questo l'abbiamo detto unico valore che può essere qualsiasi cosa quindi anche un array e possiamo fare il destructuring assignment quando lo prendiamo quindi se vogliamo ritornare a due valori ritorniamo un vettore e quando noi chiamiamo la funzione mettiamo direttamente i due valori e il vettore in due variabili diverse ok? quindi queste cose sono comunissime quindi andiamo a farci sì facciamo il giochino di modificare quella di prima quindi il force facciamo la cosa più breve che possiamo scrivere per force è square by square così ovviamente facendo fuori l'ultima graffa salvo riprovo sempre 256 ok? così abbiamo salutato anche il problema del return con la capo ok? va bene quindi questa narrow function scritta nella forma più compatta possibile sì c'è una domanda si possono fare funzioni ricorsive sì sì devo dire che non è così comune perché in javascript di solito non programmiamo cose troppo complicate però se io per esempio volessi come dicevo prima fare la copia dip di un oggetto quindi andare dentro l'oggetto ci sono dei riferimenti delle altre cose andarci dentro eccetera ho bisogno di una funzione di così apposso scriverla javascript è nato come linguaggio di programmazione per il web quindi non è che ci facciamo chissà quale elaborazione dati no? e quindi non si può però si può fare la funzione ricorsiva ok? ok ovviamente come in tutte le funzioni ricorsive bisogna fare attenzione a non inluparsi perché se non c'è una condizione di terminazione continua a richiamarsi e a un certo punto lo stack si riempie e fine come in tutti i linguaggi niente di nuovo quindi potremmo dire consentitemi di dire possiamo scrivere una funzione ricorsiva non sotto forma di arrow function in questa maniera perché dovremmo aprire una grafa e metterci una condizione di terminazione ok? però vabbè questo è un commento a parte ok ehm ehm si vi accenno questo e poi e poi facciamo si e poi facciamo la pausa perché così ci pensate sopra magari qualcuno di voi lo conosce già può venire a chiedere e così via la cosa interessante che possiamo fare dentro una funzione javascript è definire un'altra funzione possiamo definire dove ci pare ok? come vogliamo con qualsiasi sintassi vogliamo con function oppure assegnarle a un'altra variabile ok? per esempio prendiamo questo codice ops devo uscire lo prendiamo lo proviamo allora copia eh no video non c'entra ehm appiccico tutto in un unico file perché è un po' più comodo eh ma eh dove è andato paste ok allora eh ah no preferede non c'è da niente questo era un commento indentiamo eh selection ok funzione ipotenusa e cosa facciamo la radice quadrata di a al quadrato più b al quadrato lo solito formule del teorema di Pitagora però lo facciamo con una funzione il quadrato e questa funzione ce la definiamo dentro un'altra funzione ok sotto forma di arrow function o sotto forma normale ovviamente non posso non posso fare tutte e due eh perché se no se le lascio tutte e due con lo stesso nome la seconda mi dirà eh c'è già una funzione definita che si chiama in questa maniera perché ho scritto function se la assegnavo una variabile la assegnavo un'altra variabile e ho finito eh facciamo la prova console log ipotenusa di 3 4 dovrebbe venirci 5 no spero ok 5 quindi abbiamo la funzione dentro l'abbiamo eh messa eh in uso dentro la funzione niente niente di particolare fino a qui potremmo dire boh hai definito una funzione dentro una funzione va bene in molti linguaggi non si può fare in altri si eh che c'è di strano allora c'è che dobbiamo cominciare a ragionare sullo scope abbiamo detto che lo scope è privato se io definisco square qui dentro sia nella prima maniera sia nella seconda maniera qui poi non c'è più square io non posso scrivere console.log eh square 10 ok 10 e non è visibile ok dove è andato no è visibile perché è visibile questa è cattiva cosa è successo con square function square mi sa che perché ho fatto function square vediamo square togliamo questa questa è pestifera ah il bello della diretta ogni anno cambio qualcosa perché mi viene visibile eh ho creato già sopra grazie oh attentissimo stiamo eseguendo questa questi sono i pasticci che si creano nel momento in cui eh usiamo un unico file ah allora facciamo test due dai quindi così intanto impariamo a creare un altro file non che ci vada una scienza a usare questo strumento però insomma eh test due no me lo mette dentro exercise non mi piace eh perché non vabbè facciamolo qui poi poi due test due no ok quindi siamo nel posto giusto quindi abbandoniamo ehm cioè prendiamo questa roba la portiamo nell'altro file quindi qui risalvo in test due ci metto qui mi raccomando eh use strict con le grafici con le con le con le apici singoli o doppi non fa niente ma mettetelo allora facciamo la prova ovviamente qui è node tests due ok oh grazie se no magari diventavamo matti a capire una cosa che insomma dovrebbe essere abbastanza ovvio ma anche se tolgo la seconda adesso a questo punto io penso che non so cosa pensavo pensavo un'idiozia non c'è square perché perché è privato dello scope della funzione ovviamente a meno che come diceva il vostro collega non ce la siamo già messi prima va bene e e e allora e allora che serve fare le cose dentro solo per il gusto di avere una funzione dentro un'altra funzione no è perché in javascript le funzioni interne eh hanno accesso allo scope della funzione esterna e quindi tutto ciò che è visibile alla funzione interna rimane visibile alla funzione interna anche quando la funzione esterna ha finito proviamo a leggere la definizione poi ve la spiego in parole più semplici quello che abbiamo appena detto è una closure cioè una chiusura diciamo così di un valore all'interno di una funzione ok una closure è il nome dato una caratteristica del linguaggio per cui una funzione annidata dentro un'altra funzione perché è il posto dove possiamo definire gli scope eseguita questa funzione annidata eseguita dopo l'esecuzione della funzione più esterna quindi la funzione più esterna ha terminato il suo scope e è uscito dall'esecuzione questa funzione più interna può ancora accedere allo scope della funzione più esterna anche se quella funzione più esterna ha terminato no è una cosa un po' particolare ma se ci pensate poi ha il suo senso è veramente uno dei concetti più importanti da capire in javascript perché il fatto che noi possiamo passare queste funzioni a destra a sinistra col back di qua e di là fa sì che a un certo punto ci sono delle funzioni che vengono eseguite in uno scope che non esiste più perché noi le abbiamo passate quello è un riferimento e se io ho il riferimento la posso chiamare quando mi pare questa funzione ok e questa funzione aveva della visibilità su certe variabili questa visibilità gli resta per sempre a quella funzione e questo si chiama closure ok quindi esempio guardiamo l'esempio e poi facciamo una pausa quindi così ci pensate su e poi lo riprendiamo dopo perché è veramente una cosa importante ce l'avevo però forse in un esempio cosa sono i miei c'era l'ello tom eccola qua allora ve la incollo di nuovo in test 2 qui sotto qui non abbiamo fatto una closure nel senso che square è diventata inaccessibile io non l'ho tirata fuori dalla funzione e quindi si era chiusa ma è rimasta chiusa e arrivederci e sparirà qui invece facciamo una cosa diversa format ok quindi qui creiamo una funzione gritter che saluta un certo nome chiameremo tom e jerry va bene ci facciamo una copia del parametro non è indispensabile ma così fissa le idee c'è una variabile definita nello scopo interno della funzione gritter e poi definisco una funzione annidata hello function che cosa fa questa funzione non prende parametri e mi scrive solo cioè mi da scusa mi ritorna solo due stringhe concatenate hello più il valore della variabile interna alla funzione che è anche il parametro che ho passato ok e poi io cosa faccio return hello occhio eh qui sto ritornando la funzione e non sto ritornando il valore non ho scritto come c'è scritto sulle slide non ho scritto così così è un'altra cosa così sto chiamando la funzione e sto facendo fare il calcolo così ritorno la funzione questo è il primo posto dove vediamo qualcosa che ritorna una funzione ok ritorno una funzione perché? perché in ello ci ho messo dentro una funzione se c'è una funzione c'è un riferimento a funzione quindi ritorno una funzione cosa fa il codice? constello tom chiama gritter tom questo non stampa nulla non fa nulla semplicemente in ello tom ci finisce riferimento a una funzione quale? quella che è stata definita dentro gritter ok e che vedeva come my name vedeva tom poi rifaccio la stessa cosa con jerry e ci finisce dentro la funzione definita dentro che vedeva come my name jerry e se io poi chiamo queste funzioni con la tonda perché sono riferimenti a funzioni quindi le posso chiamare mi verrà fuori stampato la prima volta tom e la seconda jerry anche se qui return ello ritorna sempre la stessa funzione cioè lo stesso codice non è che ho cambiato il codice qui ma stampa due cose diverse e perché? perché si è creata questa closure intorno al my name cioè la ello si è ricordata non il valore ma il riferimento alla variabile che vedeva nel suo scope dove è stata definita ok quindi proviamolo cos'è capitato qui square devo commentare lo square giusto perché non esiste facciamo che farlo sparire così giusto grazie benissimo che siete attentissimi vedete la prima volta stampa ello tom e la seconda stampa ello jerry ma qui ci potevo scrivere a e b mi raccomando non è che stampa ello tom perché l'ho chiamata cioè può essere qualsiasi cosa questi sono nomi di variabili che definisco io in cui metto un riferimento a una funzione ok questa funzione ricorda lo scope che aveva quando è stata definita ok quindi lo scope più esterno tutto ciò che era visibile a quella funzione ok ovviamente la funzione esterna non esiste più quindi il my name non potrà più cambiare perché non ho più una maniera di cambiarlo perché la maniera di cambiarlo era passare un altro valore alla funzione però c'è un riferimento a questo valore che è rimasto chiuso per questo closure dentro lo scope della funzione hello e questo se lo può questa hello se la porta dietro se lo porta dietro ok perché ci sono due valori diversi perché la prima volta vedeva il my name della chiamata della prima chiamata gritter e la seconda volta vedeva il my name della seconda chiamata gritter e sono due variabili diversi perché ogni volta che viene chiamata la funzione gritter viene creata una nuova variabile my name quindi sono diverse ok direi che abbiamo fatto abbastanza però quindi ragionateci sopra mentre prendete il caffè o non so vi riposate un secondo 5-10 minuti se avete dei dubbi poi lo riprendiamo e vediamo qualche esempio e facciamo l'esempio che ho messo a disposizione ieri sul git ok intanto vi faccio il commit di questo file grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti